La festa della fantasia e della natura, la festa di tutti. Anche quest'anno la festa internazionale degli gnomi, in programma dal 14 al 16 luglio a Roccaraso, va vissuta tutta ad un fiato per farsi abbracciare dalla natura e dai boschi incantati, regno incontaminato e fantastico di fate, folletti, elfi, gnomi, unicorni e cavalli alati. L'edizione di quest'anno è stata presentata a Pescara. Sentiamo l'assessore regionale Daniele Damario e il sindaco di Roccaraso, Francesco Didonato. Sicuramente è una manifestazione importante, come hai detto tu, oramai ha raggiunto 20 edizioni, è una manifestazione dedicata ai più piccoli e quindi alle famiglie e noi riteniamo che l'Abruzzo abbia e debba rispettare anche più giovani, debba candidarsi per un turismo dedicato alle famiglie, tra virgolette in una delle zone più belle sicuramente dell'Abruzzo che sono quelle dell'Alto Sangro, che non solo meta per quanto riguarda il turismo invernale dedicato allo sci, ma sicuramente anche meta estiva, dedicata alle famiglie, dedicata ai più piccini, dedicati alle passeggiate in montagna, dedicati a tutto quello che quel territorio offre per rendere felice un turista. Si preannuncia come tutti gli anni, anzi ancora di più, una festa straordinaria, eccezionale, bellissima, una festa per i bambini, per le famiglie, una festa che merita di essere vissuta totalmente tutti e tre i giorni da parte di tutte le famiglie, tutti i nostri bimbi. Vi invito a venire perché il binomio natura, elfi, gnomi e quant'altro è qualcosa di eccezionale. Come Comune Roccaraso sponsorizziamo da un punto di vista non soltanto economico ma proprio di impegno questa manifestazione, ci crediamo fermamente perché è una delle più belle in Abruzzo di quest'estate. Vi invito a partecipare. L'attenzione ai luoghi naturali e all'ambiente si sposa con la natura stessa del progetto di teatro ambiente in cui il luogo diventa esso stesso parte della narrazione e protagonista dell'evento. Insomma, un racconto fantastico fatto con i luoghi e non nei luoghi. Sul contenuto della tre giorni sentiamo il direttore artistico del festival Zenone Benedetto. Ci saranno più di 32 spettacoli che si alterneranno nell'ambito delle tre giornate di programmazione. Ci saranno 120 artisti, figuranti, gruppi che verranno da tutte le parti d'Italia e cercheranno di aglietare piccoli e grandi in un insieme di emozioni ma anche di narrazione e di racconti che vengono portati avanti all'interno di una location magnifica che è quella di Fonte La Guardia in località Remogna di Roccaraso. Ci tengo a dire che quest'anno possiamo vantare anche la collaborazione del WWF Italia e di Unicef che ha sposato questo progetto perché è molto vicino ad un progetto che portano avanti da un po' di tempo a questa parte e cioè ritornare al diritto dell'infanzia al gioco. E qui noi abbiamo tanta voglia di giocare insieme a tutti i nostri piccoli spettatori.